Sono sei candidati presidente con i rispettivi listini sulle schede elettorali per le regionali in Piemonte del 25 maggio, nell'ordine definito dal sorteggio della Corte d'Appello. Mauro Filingeri, l'altro Piemonte a sinistra, Enrico Costa, nuovo centrodestra Udc. Guido Crosetto, Fratelli d'Italia N, Sergio Chiamparino, Chiamparino presidente, Davide Bono, Movimento 5 Stelle e Gilberto Picchetto, centrodestra per Picchetto. Una festa della liberazione con Benaturo e Jazz, quella che ha attraversato la città di Torino il 25 aprile, con la partecipazione del Consiglio regionale nel sostegno ai momenti musicali, al Museo della Resistenza con la Big Band Theory e in Piazza Castello con i Trovesi all'Opera e lo spettacolo di Daniele Sepe, Un Trot Jets Fraction. Maggio per riscoprire il piacere di leggere. La Biblioteca della Regione aderisce alla quarta edizione del Maggio dei Libri, con un programma che prevede numerose occasioni d'incontro dal battello dei libri a una serie di conferenze nelle sedi delle biblioteche aderenti. Muto soccorso e solidarietà, immagini grafiche, opere, installazioni e una fontana. E' la mostra dell'artista torinese Claudio Rotta Loria, ospitata fino al 28 maggio presso il polo universitario Officina H, via Montenavale 1 ad Ivrea. La mostra I tre monti consacrati a San Michele, storia e iconografia, è visibile nella chiesa parrocchiale di Rondissone dal 1 al 4 maggio. L'esposizione è divenuta itinerante per iniziativa del Consiglio regionale, che ne ha già curato l'allestimento in diversi comuni del Piemonte.